Città di Conegliano, 21esimo meeting nazionale di Atletica Leggera. Una giornata che sicuramente non dimenticheremo. No, di sicuro e anche per me è un meeting importantissimo perché io ho cominciato a fare atletica nel 1988 e uno dei primi meeting della mia atletica, quando la feci anch'io, fu proprio il trofeo Città di Conegliano. Questo meeting, che nasce anche come trofeo Fallai, è qualcosa che in casa dimostra di essere la vera atletica anche per il futuro. Qui abbiamo visto anche stasera ragazzi giovanissimi di seconda e terza media che lanciano il Vortex e che potrebbero essere il futuro della nostra atletica. Abbiamo visto o stiamo vedendo adesso delle immagini sul lancio del peso dove c'era Dal Soglio che è arrivato alle Olimpiadi tra i primi e tanti altri campioni italiani come Cotardi. Questa è l'atletica che io vorrei si potesse proporre anche a livello nazionale perché è un meeting nazionale e fare un po' da apripista quello che è il settore giovanile che noi stiamo curando moltissimo nel locale. La Silca lo fa da 32 anni, io ho iniziato quest'anno come presidente, mi hanno passato il testimone e questo mi permetterà di dimostrare un qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto adesso. Non perché prima non erano in grado ma perché probabilmente per una voglia anche di passare il testimone e di vedere nuovi volti come lo è nell'ambiente dell'atletica anche nell'ambiente della direzione di questa che è l'atletica locale ma non solo perché abbiamo anche delle squadre che vanno forte e siamo tra i primi in Italia. Ovviamente è un lavoro di recupero di sponsor che ci ha aiutato molto e devo dire che questa è stata una buona risposta anche perché le necessità non sono moltissime però ci devono essere e ci devono essere costantemente tutto l'anno. Gli spazi erano veramente pieni oggi qui a Conegliano? Sì, ne eravamo sicuri di questo perché con circa 400 atleti iscritti dovevamo dimostrare alla cittadinanza, alle nostre autorità locali, al sindaco e ai vari assessorati che un movimento come l'atletica Silca Conegliano che esiste da 30 anni sotto lo stesso marchio, ed è questa una rarità, dimostra di fare un percorso che in certi momenti è più difficile ma in questo periodo dobbiamo rilanciarla perché probabilmente in un momento difficile ci si deve più unire in quelli che sono dei ruoli più sociali, più agonistici ma che ovviamente non abbiano dispendio di energie e di aspetti economici come altre attività sportive che ovviamente necessitano di premi o di lauti, stipendi diciamo. L'atletica è fatta per incorrere la medaglia, per incorrere il carattere, per incorrere la formazione e ovviamente per far sì che questi ragazzi stiano veramente bene. Il suo ruolo è importante, ma come rispondono i giovani alle richieste di atletica? Atletica è uno sport difficile perché è uno sport che nasce individuale, diventa squadra solo un paio di volte all'anno quando bisogna preparare i campionati di società e quindi prima di tutto c'è l'individuo e poi c'è l'organizzazione, la società e tutto quanto. Significa allenarsi insieme di compagni di squadra che non fanno le tue stesse misure, le tue stesse distanze, le tue stesse risultati. È successo anche a me nel passato quando dovevo correre quando i miei compagni di squadra non c'erano e dovevi correre da solo e dovevi correre quando eri in compagnia di altri e a volte non riuscivi ad arrivare tra i primi. Quindi è uno sport che forma il carattere. Se questo viene recepito, secondo me la massa è difficile che arrivi a noi perché gli sport del gioco, come il calcio, dicendo, prende di più a livello di giovanile. Però chi fa atletica forma nettamente un carattere di voler primeggiare, di voler fare dei risultati e questo può essere un buon vaccino per poter poi anche lavorare, semplicemente lavorare. Atletica vuol dire anche sacrificio. Ma perché un giovane dovrebbe avvicinarsi a questo mondo? Infatti quando si è giovane è molto difficile spiegare che fare atletica significa poi vita. La vita che poi chi ha qualche anno in più capisce che i momenti di gioia sono pochi e i momenti di sacrificio sono molti. Se fai un po' di atletica probabilmente anche i momenti di fatica sono molto più semplici, sono molto più facili da affrontare. E questo penso che sia un allenamento per quello che è il mondo del lavoro. Accompagnarli a fare questo bisogna accompagnarli dimostrando che esiste una medaglia, esiste un primo posto, esiste qualcuno che non ti deve dire che sei stato bravo ma lo dice il tempo stesso o addirittura la posizione che sei arrivato. E questo secondo me nella vita vale di più di farsi sentire dire sei arrivato bene, sei stato bravo, dicendo. Se sei arrivato primo, sei arrivato prima, non hai dubbio che sei stato il migliore. Oggi fare atletica senza averla conosciuta è uno spirito di profonda solidarietà, di profondo senso civico, di profondo senso sociale. Però se hai fatto anche atletica è anche un profondo senso di agonismo. L'ambiente dell'atletica comunque, pur essendo un ambiente dove il bambino cresce sotto l'aspetto sociale, è anche un ambiente dove il bambino deve primeggiare, deve cercare di arrivare, deve cercare di migliorarsi. E quindi oggi, avendo fatto atletica, mi aiuta a far capire che a volte si può giocare ma a volte bisogna fare le cose sul serio. Vorrei poter fare un'atletica sul serio, visto che il settore assoluto oggi sta soffrendo e quindi cresciamo delle nuove leve per quello che è il futuro di questo atletico. Parliamo di risultati. Come stanno andando gli atleti della Silca Conagliano? Allora, gli atleti della Silca Conagliano stanno andando bene. Adesso è appena iniziata la stagione estiva, la stagione invernale abbiamo fatto di buoni risultati a livello nazionale e regionale. I più giovani si stanno creando un bel gruppo, di conseguenza si fanno forza nelle campestre, nel periodo invernale. Nel periodo estivo invece stanno iniziando proprio a dare i primi risultati. Anche domenica abbiamo fatto di buoni risultati nei vari meeting. E soprattutto segue anche il settore giovanile assoluto che si sta preparando per fare i campionati di società e dai primi risultati di qualificazione che abbiamo dovrebbero darci una soddisfazione nel migliorare la posizione di dove siamo. Cioè probabilmente saliamo di classifica. Quindi essere nelle prime 10-15 società in Italia questo ci fa onore. Anche e soprattutto perché bisogna fare una vetrina per questi nostri sponsor che sono la fonte vitale di quelli che sono i movimenti come questi di atletica, di ambiente sportivo che viene sostenuta dall'industria e dall'imprenditoria locale. A proposito di sponsor, lei prima diceva che il ruolo del presidente è anche trovare sponsor. Il momento in cui la nostra nazione sicuramente vive un momento facile, quanto difficoltà c'è a trovare lo sponsor che crede anche nell'atletica? È un momento difficile, ma io sono positivo da sempre. Ritengo che il momento difficile che sta avendo la nazione sotto l'aspetto imprenditoriale, economico, finanziario, poi lavoro anche in banca, quindi le cose le conosco, c'è sempre comunque la possibilità di pensare che se non diamo contributi all'atletica, come anche alle altre società sportive, probabilmente troveremo delle difficoltà sociali più avanti per il settore giovanile, per i ragazzi che non hanno un posto dove andare a fare attività sportiva, per il settore sanitario che hanno dei ragazzi che possono essere obesi o che non si stanno bene fisicamente. Quindi secondo me si può abbassare i toni, si può accontentarsi di qualcosa di meno, ma secondo me nell'ambiente dell'atletica, che poi è il meno dispendioso, perché non sono professionisti, sono tutti ragazzi che corrono, studiano o lavorano, si può fare con poco grandi cose.